Nell'ambito del rapporto Formez dal titolo esperienze innovative sul valore pubblico abbiamo accompagnato 15 regioni e due province autonome nella predisposizione del Piau di qualità. Qualità del Piau significa avere uno strumento con pochi obiettivi, indicatori adeguati, integrazione tra le diverse anime del Piau e tutti i contenuti funzionali alla creazione di valore pubblico. Qualità del Piau significa anche però integration team quindi un gruppo di lavoro che che costruisce che programma insieme e significa anche qualità del processo ovvero partire dagli obiettivi di valore pubblico pianificare gli stessi insieme agli stakeholder quindi poi andare a programmare obiettivi di performance funzionale i primi, misure anticorruzione che proteggono le performance del valore pubblico e infine programmare azioni di reclutamento di formazione di profili funzionali a raggiungere gli obiettivi di valore pubblico. Di questo ed altro parleremo nel rapporto Formez realizzato per il Dipartimento della Funzione Pubblica. A tutti buona lettura.